Assessore, lei diceva che si esce dalla crisi con una marcia in più, quindi le risorse, le opportunità ci sono per questo territorio? Le risorse ci sono, le opportunità ci sono, la marcia in più, intendevo che uscire da questa crisi significa un progetto industriale forte, virtuoso, che punti sulla qualità, su quello che c'è nel territorio, quindi un'economia di territorio ma al contempo attenta ad una nuova formazione, ad uno slancio diverso, altrimenti ritorniamo in una logica assistenzialista che non serve o l'acquisizione di mercati, di una logica di mercato che non è quella del territorio, che non è servita, dobbiamo evitare questo mordi e fuggi che c'è stato in passato e dobbiamo cercare di comprendere a tavolino che cosa si può fare, che cosa si deve fare, dando un grande rilancio all'innovazione e con velocità, perché il territorio sta morendo. Lei parlava anche di buone notizie da Roma per quanto riguarda gli organici scolastici e anche per quanto riguarda la cassa integrazione per questo territorio. Sì, ci sono buone notizie sui due fronti, sulla cassa integrazione che è quello che oggi interessa di più, c'è una proroga del sostegno ai lavoratori, ai disoccupati e questa è un'ottima notizia. Il secondo punto invece si sta lavorando al Senato per l'emendamento presentato per lasciare nelle zone del cratere del sisma l'organico pre-sisma. È una battaglia molto grossa che io ho portata avanti convintamente e devo dire appoggiata dai sindaci, dalle parti sociali, da tutti.